Paolo Pennacchione, 50 anni, detenuto dal 2011 al supercarcere di Lanciano, non è rientrato in prigione dopo un permesso di tre giorni. La sua pena, in scadenza nel 2032, è stata interrotta ieri mattina alle 10.20 quando il suo mancato rientro ha fatto scattare l'allarme per evasione. Le forze dell'ordine sono ora impegnate nella sua ricerca. Pennacchione, originario di Ortona, stava scontando una condanna per una serie di circa 40 rapine commesse principalmente in Abruzzo e nelle Marche. Venne arrestato nel marzo del 2011 a Civitanova Marche, colto in flagrante, mentre tentava il colpo nella filiale della Carifermo. Nel suo veicolo i carabinieri trovarono un kit del rapinatore contenente una pistola giocattolo, un cappello, un passamontagna e tre taglierini. Al momento dell'arresto Pennacchioni si complimentò con i carabinieri mostrando un atteggiamento da gentiluomo. Ogni giorno godeva del regime di simili libertà per lavorare presso un'agenzia funebbre ad Ortona. Recentemente aveva ottenuto un permesso di tre giorni, ma martedì scorso non è rientrato come previsto. Dopo un ritardo di 12 ore è stato ufficialmente dichiarato evaso, come confermato dal supercarcere di villa Stanazzo. Le forze dell'ordine hanno immediatamente avviato le ricerche per localizzare Pennacchione, preoccupati non solo per una possibile fuga, ma anche per la sua sicurezza personale. Sono stati effettuati controlli nella sua abitazione a Ortona, ma l'uomo e suo padre risultano entrambi irreperibili, alimentando il sospetto di una fuga orchestrata. L'allarme è stato esteso su tutto il territorio nazionale e anche oltre i confini italiani. Le forze dell'ordine sono mobilitate per ritrovare Pennacchioni, monitorando possibili contatti e movimenti sia in Italia che all'estero.